Secondo tempo, Vladia d'orso ufficine terzo. 7 a 2 per l'ufficine terzo. Ammazzate! No, ti incontro! Ma perché entro c'è il passaggio? Se mi manca fa un passaggio, è giusto! Non me lo aspetto! No, così no! Non me lo aspetto! Perché non dici una parola! Piappara la p***a! Ma lo mettono avanti però! Non mi sono stancato niente! L'altra volta è un po' saltellato! No, sono organizzato per una uva! Oh, oh, ciao! Non vedo! Non vedo! No, non vedo! Vai, basta apposta eh! Ma... Scansi! Oh! Non la posso dare mai! Non la to! Non la to! Non lo sento le voli! No! A chi? Non lo sento! Atento! Ehi! Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. 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 . a tutti. 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 . . . tutti. . 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